Proprio la cura del creato è alla base dell'istituzione dello Shabbat che, oltre a regolare il culto divino, mirava a ristabilire l'ordine sociale e l'attenzione per i poveri. La celebrazione del Giubileo, nella ricorrenza del settimo anno sabbatico, consentiva una tregua alla terra, agli schiavi e agli indebitati. In questo anno di grazia ci si prendeva cura dei più fragili, offrendo loro una nuova prospettiva di vita, così che non vi fosse alcun bisognoso nel popolo. Buongiorno a tutti, sono Tommaso Bernardi, ho 19 anni, vivo a San Martino di Lupari e sto vivendo il mio anno santo. Ebbene sì, chiunque digiti in qualsiasi motore di ricerca al termine Giubileo, la risposta che risulterà sarà anno santo. Lo definisco tale non solo per l'attività che sto svolgendo, ma per il suo significato più antico e profondo, inteso quindi come anno di tregua. Al termine del quinto anno delle superiori, ho deciso di cogliere l'opportunità dell'anno di volontariato sociale della Caritas, periodo nel quale potrei prendere del tempo per osservare, sotto una luce diversa, il mio stare nel mondo. Tregua dà la continua pressione che la società impone ad un giovane appena uscito da un ambiente che l'ha accompagnato per un lungo, forse lunghissimo periodo della sua vita, il mondo della scuola. Ho deciso quindi di concedermi un anno di tregua, un tempo per fermarmi, riflettere e dedicarmi alle persone che l'esperienza mi metterà accanto, accostando nel servizio uomini e donne a cui la vita non ha concesso e non concede tuttora una tregua. La vita spesso scorre così veloce che a volte il tempo sfugge. È proprio quando ci si ferma che si riesce a cogliere in pienezza il senso di ciò che si vive. Mi auguro, infine, che questa esperienza non sia riempire un tempo vuoto, ma mi permette attraverso il servizio di conoscere, anzi riconoscere e comprendere chi essere nella mia vita. Donare un sorriso, ascoltare una storia di vita, guardare insieme verso il futuro, significa prendersi cura dell'altro. Esprime il coinvolgimento personale con la persona, coinvolgimento che si esprime attraverso la premura, l'incoraggiamento ed il sostegno. Talvolta le persone che incrociamo negli angoli, ahimè, così gremiti delle nostre città e da cui molto spesso cerchiamo di distogliere lo sguardo illudendoci siano invisibili, ci interpellano. Il fine primo dello shabbat ebraico, in realtà, si cela proprio dietro all'importanza di mettere nuovamente al centro quelle persone che per troppo tempo sono state lasciate ai margini della società. Grazie a tutti.